Dieci mesi di carcere in più per aver preso un cappuccino al bar. Questo è quanto è costato un calabrese di 50 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e sottoposto agli arresti domiciliari che ha avuto semplicemente voglia di fare colazione al bar come ha dichiarato ai militari dell'arma dei carabinieri che lo hanno pizzicato in un bar di Lucrezia di Cartoceto in un orario in cui doveva trovarsi nella sua abitazione dove sconta la detenzione domiciliare. Arrestato in flagranza di reato per evasione e portato davanti al giudice ha patteggiato una pena di dieci mesi da scontare sempre presso la sua abitazione che si aggiungono alla pena che già sta scontando.